Grazie a tutti. So che ho sbagliato a uccidere Santa. La Trinità. Voi sapete che la ragazza non voleva contatti di nessun tipo con me. Mi faccio suora. Voi sapete che per circa tre anni ho insistito e tentato inutilmente di contattarla. Pronto chi è? Pronto? Sia voi che lei. È per te Santa. Dovevate capire la situazione. Si firma Giuseppe. E a secondare la mia volontà. Papà. Sa tutti i nostri passi. Non potevo dirvi che ero pronto a ucciderla. Siamo nelle mani di un psicopatica. Voi dovevate capirlo. Dall'intensità del mio interesse per la ragazza. O mia. O di nessuno. Comunque adesso è finita. È morta bene la bella Santa. Come una vera cristiana. E a me. E a me. E a me. E a la mia. Grazie a tutti